numero 5 questo set contiene piastra panno in microfibra secchio e strizzatore la forma del secchio unica e lo strizzatore asimmetrico assicura il grado di umidità ottimale del panno per l'utilizzo su diversi tipi di pavimento il panno in microfibra 2 in 1 è ottimo per lo sporco ostinato ed offre eccellenti prestazioni di pulizia le fibre rosse e grigie puliscono in profondità i tuoi pavimenti mentre quelle bianche lasciano brillare ogni superficie con questo set sarà possibile rimuovere il 99 per cento di virus e batteri i panni di ricambio disponibili separatamente possono essere lavati in lavatrici fino a 60 gradi l'attacco è a vite universale trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 set vile da spin e clean con due panni di ricambio grazie al rullo pulente che rimuove lo sporco il panno rimane pulito durante l'intero processo di pulizia facile da pulire basta rimuovere il rullo dal secchio e risciacquarlo sotto acqua corrente il panno lavapavimenti è lavabile in lavatrice fino a 60 gradi il sistema di strizzatura manico è rapido ed efficace la piastra piatta è dotata di aletta pieghevole e permette di pulire agevolmente anche i battiscopa il panno realizzato al 100 per cento in microfibra cattura tutti i tipi di sporco peli di animali domestici e capelli trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 sistema lavapavimenti con secchio contenente una testa in microfibra e cotone di ottima qualità il set consente una pulizia profonda ideale per la pulizia negli angoli il secchio ha una capacità di 10 litri offre un comodo beccuccio versante il manico di questo set è allungabile fino a 140 centimetri ottimo prodotto per una pulizia rapida ed efficace su tutti i tipi di pavimento se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 2 ottimo box lavapavimenti ideale per chi ama una pulizia rapida e profonda senza sforzi questa confezione offre un secchio con strizzatore torsion power tre fiocchi in microfibra di ottima qualità per diverse esigenze si tratta di uno dei migliori sistemi lavapavimenti facile da usare se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 ottimo set lavapavimenti per una strizzatura efficace e senza mani facile da trasportare da una stanza all'altra questo sistema lavapavimenti rotante è dotato di milioni di filamenti di microfibre per raccogliere efficacemente lo sporco è sicuro su tutti i pavimenti incluso legno laminato piastrelle vinile ottimo per un pulito senza aloni il fiocco in microfibra è lavabile in lavatrice a 60 gradi per risultati ottimali il fiocco dovrebbe essere sostituito ogni 4 mesi grazie alla piastra triangolare è possibile raggiungere e pulire in profondità negli angoli sotto i mobili lungo i battiscopa e tra le piastrelle se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione